di intervento giuridico, qua è presente il Presidente Stefano Dei Peri, per le numerose denunce all'imministrativo di sensibilizzazione dell'attività pubblica, per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente, salve, minacciato sempre più spesso da abusivismo edilizio, da inquinamento e quanto altro. Grazie. La giuria nazionale consegna il premio Emanuele Alloia, Procuratore di La Rosei, Domenico Giordalizzi. Per la sua grande volta, per portare avanti il suo lavoro, mettendo la luce e i fatti, e la verità nascosta del polizono di giuria, in movimento e la giuria le dicono, vada avanti Domenico Emanuele Alloia. agli elogi